...di film immortali e leggendari in cui la musica gioca un ruolo decisamente importante. Lui stesso, che suonava il violino e il broncello, scrisse eserci temi musicali caratterizzati da metodie semplici e affascinanti. Marcel Peters ne ha arrangato alcuni e in tutta composizione si possono riconoscere La Lai Time with them, Morning Promenade, This is my song, Titina, mandolin serenade, Green Lantern Rang, Femme Star, mandolin merch, e Zavogel Arbe, Viciaricelli, De Lanji, Wilson, Felix, Farsos, Selection for Compte Barri. Grazie. 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 Grazie.